Ancora Maicon indietro verso Pjanic, lanciano avanti per Salah, limite della linea di rigore, Salah, il tiro, go, 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 è tornato, è tornato, è tornato il feroce Saladino, è tornato il feroce Saladino ed è proprio dalla gara contro la Fiorentina che non segnava il feroce Saladino, dà il vantaggio alla Roma, il gol all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, un grande sinistro a giro dal limite dell'area di rigore, il feroce Saladino ha ricevuto il pallone da Pjanic, dal limite dell'area di rigore, ha lasciato partire un sinistro a giro che non ha dato scampo a consigli. 35 secondi adesso, 30 secondi ora, 30 secondi ora, calcio di punizione, 25 secondi adesso, calcio di punizione che sta per essere battuto, con palla ancora verso Salah, Certo? Ferma Magnanelli, ancora Perotti, ruba palla, dentro del sapere malallia di rigore, ancora Perotti, Perotti, il cross è fino a capa! Go! 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 Escianawi! Escianawi! E厨awi! Escianawi! Ho messo d'accordo tutti! Tutti sopra! Tutti sopra! Tutti sopra! Scendono giungheri dalla curva, tutti sopra lui, pure il pelato, pure il pelatone, è bello in casa, è tornato il pelato, è tornato il pelato, 2-0 per la Roma 2-0 per la Roma, tutti a casa tutti a casa